per la prossima batteria ai blocchi Bianca Vigoni in uno Francesca Giro in due Aurora Dima in tre Giulia Compiani in quattro Serena Bighelli in cinque Maria Antonietta D'Amico in sei Giorgia De Mas Micheluto in sette Chiara Frelic in ottava Corsia è la terza delle quattro batterie junior femmine quella in acqua andiamo a vedere il touch contesa la vittoria Cordiali 27 80 Bianchin 27 97 Giacalone 28 e 10 28 Mottok wattro